Tre malattie si manifesteranno contemporaneamente nel mondo, creando molta paura. Un'ombra oscura si estende sul mondo, minacciando di inghiottirlo nel caos. La Madonna, con voce materna e preoccupata, ci mette in guardia contro i pericoli che incombe. Un'epoca di grandi prove si sta avvicinando, un tempo in cui la fede sarà messa a dura prova. Ma non temete, figli miei, perché la Madonna è sempre al nostro fianco, pronta a guidarci e a proteggerci. È giunto il momento di abbandonare le false sicurezze e di riconnetterci con Dio. Solo così potremo affrontare le sfide che ci attendono e costruire un futuro migliore. Leggiamo il messaggio Amati figli Altri virus si stanno avvicinando all'umanità e le impediscono di spostarsi da un luogo all'altro. I ratti sono la causa di un'altra grave malattia che si sta diffondendo in vari paesi a causa dell'incuria delle creature umane. Tre malattie si manifestano contemporaneamente. Il virus della pandemia precedente che si ripresenta La variante della lebra La malattia trasmessa dai topi Questo, unito allo stato di allerta nel bel mezzo della terza guerra mondiale Porta tutta l'umanità a stare in allerta Crescete prima di tutto spiritualmente Prendete sul serio il cammino verso il mio figlio divino E siate obbedienti alle richieste della casa paterna che vi chiama a salvare l'anima Figli, se volete continuare a lottare verso la verità Per rimanere uniti al mio divin figlio Allora approfondite la conoscenza delle sacre scritture Conoscete le sacre scritture Dovete essere attenti alle reazioni della natura Perché i terremoti diventano più frequenti E la loro intensità aumenta Così come colpisce il nucleo della terra che trema fortemente Figlioli La terra si è indebolita L'acqua avanza su di essa Diventando più mare e meno terra Un oggetto dallo spazio si avvicina alla terra Sfiorando l'atmosfera da lontano Provocando forti movimenti sulle faglie tettoniche E grandi devastazioni Madre Maria